Il mercato del biologico genera un giro d'affari da 2,1 miliardi, secondo quanto rileva Assobio. Il peso nella grande distribuzione italiana è pari solo al 3% del totale mercato alimentare, quasi il 90% delle famiglie acquista prodotti biologici almeno una volta all'anno. Tra i più venduti ci sono le uova, le gallette, le confetture e gli spalmabili a base di frutta e i sostitutivi del latte. Stando ai dati Nielsen IQ, la categoria che cresce di più rispetto allo scorso anno è l'olio extravergine di oliva, con un trend assolutamente positivo. In Italia le famiglie acquerenti sono pari a 24,8 milioni, lo scontrino medio è di 5,1 euro e la spesa media annuale pari a 150 euro. A questi dati si aggiungono quelli presentati da SVG che mostrano il percepito del consumatore. Emerge la conferma del forte legame tra prodotto biologico e salute, ma anche l'interesse verso prodotti arricchiti, ad esempio di proteine o con minore contenuto di grassi e zuccheri.